Il reparto di progettazione, grazie al proprio know-how, si occupa di assistere il cliente nello sviluppo dei propri progetti. Dall'idea iniziale, passando attraverso la prototipazione e l'industrializzazione dell'intero processo. Collaborando a stretto contatto con i nostri clienti, risolviamo le problematiche di produzione, ottimizzando le tempistiche, i pesi, il design e la qualità del prodotto. Tutto questo si può tradurre in un grande risparmio per il nostro cliente. Grazie alla prototipazione, diamo la possibilità al nostro cliente di visionare il progetto ed eventualmente modificarlo. Definito il prototipo, il nostro team si dedicherà alla progettazione dello stampo, scegliendo i materiali più edonei alla specifica esigenza del cliente. Sarà poi compito dell'officina meccanica la costruzione dello stampo e del reparto stampaggio la realizzazione del prodotto finito.